Siamo in compagnia di alcune delle protagoniste, di allora le quinte, di questo fantastico spettacolo Oz in Musical. Sono le magnifiche insegnanti che con passione ogni giorno trasmettono ai loro allievi il piacere e la bellezza della danza. Che cosa rappresenta per voi questa di far vedere ai ragazzi una realtà diversa, non il solito saggio ma un vero spettacolo che comunque è uno spettacolo di un alto livello e quindi si confrontano con una realtà proprio diversa. Quest'anno le partecipazioni del club escono un po' fuori anche dal comprensorio di Cinevecchia, Santa Menella, di Viscoli. Abbiamo avuto richieste anche in Campania, la voglia. Abbiamo un uomo di Campania, da Formia. Da Formia, sì esatto. Com'è sempre nel contatto con la Viscola? Allora io ho avuto il piacere di avere Andrea nella mia scuola per uno stage e di avere con lui una collaborazione annuale nella scuola e quindi mi ha messo in contatto con Leonardo Lofredo che è uno degli organizzatori di questo musical e così mi ha presentato questa nuova realtà. Mi è stato un piacere perché, come ha già detto la collega, è stata un'esperienza, un approccio lavorativo diverso che esce un po' dai canoni scolastici. Quanto partecipate a questo progetto? Io dall'inizio di questo progetto, sono circa tre anni e speriamo di continuare perché i miei ragazzi sono entusiasti, perché non è da tutti i giorni, comunque lavorare con grandi professionisti dello spettacolo e lavorare con un musical e questo piace a me, mi piace a loro. Noi siamo in compagnia anche di Laura Moggi, che è proprio della Leap Club, che ha visto nascere queste iniziative e anche le viste con il resto. Dal tuo punto di vista questa realtà che stanno credendo, che cosa è difficile? Beh, è iniziato tutto quasi come un gioco, attraverso una collaborazione con il maestro André, che poi è diventata una bellissima cosa, una bellissima esperienza per i ragazzi, perché l'abbiamo voluto ampliare anche alle altre scuole, perché oltre ad essere un momento di aggregazione, è anche un momento di crescita, perché in un momento in cui hanno... un attimo c'è stato! Sei emozionata! Sì, grazie tantissimo, ma buon momento! E poi sono tutte molto carine anche le scuole che si fanno partecipando, quindi è una Ha un significato particolare perché comunque è veramente un amore. Allora, buca rumbo a tutti i nostri amici, ma anche a voi, immagino sarete emozionatissimi nel mettere in pratica quello che insegnate ogni giorno. Grazie a voi. Grazie.